Esatto ragazzi, noi oggi andremo in... Prima di inizio! Oddio! Oddio! Eccola! Prima di inizio! Ciao ragazzi, io sono Aurora e tu sei... Ludovica! E con noi c'è anche... C'è Ida! Ciao C'è Ida! Allora ragazzi... Allora ragazzi, potete vedere che siamo tutti quanti eleganti? Wow! Ragazzi, allora, oggi è una giota molto particolare perché oggi si va in... Il Limousine! Sì! Oggi ragazzi abbiamo deciso di fare una festa sorpresa per tutti i nostri cuginetti, il Limousine! Esatto! Perché Auri? Perché noi non ci siamo mai qui a Napoli e quindi abbiamo deciso di fare questa mega sorpresa a tutti i nostri cuginetti! Esatto! E forse qualche giorno andiamo in barca! Eh sì, poi andremo anche in barca! Ragazzi, però diciamo che i nostri cuginetti non sono mica che noi andiamo in Limousine! Perché loro... Io devo andare subito! Tu vuoi andare subito? E adesso ci andiamo eh! Perché loro sanno che... Dobbiamo semplicemente mangiare una pizza qui, ecco! Ma no, 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 no! Pien arriveranno faremo vedere la Limousine e faremo sorpresa! Eh sì, perché loro... Forse nella Limousine mangiamo McDonald's! Esatto, ragazzi, ora vedremo, però vi assicuriamo che sarà una serata bellissima! Esatto! Allora sceglierò tutte io le casse! Sì, ma con la Limousine andremo... A Mercellino! Sì, non avete detto questo piccolo particolare! Esatto! Mangeremo le graffe e balleremo e canteremo e canteremo e giocheremo! Allora basta! Ragazzi, siamo molto entusiasmati! Ragazzi, ma vogliamo andare a vedere se la Limousine è arrivata? Esatto, ragazzi, perché arriva alle 6 e sono le 5 e mezza! Sì, infatti! Andiamo, 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 andiamo! E io corro! Corro, e corro! Vabbè ragazzi, siamo in attesa che arrivi la Limousine, ma nel frattempo sono arrivati i cuginetti! Lecci, venite! Venite! Eccoli, ciao! Ciao, ciao! Ben arrivati! Ragazzi, avete fame? Si mangia, Cesena! Adesso andiamo a mangiare una bella pizza all'interrazza! Esatto! Però ragazzi, prima dobbiamo aspettare... Però prima dobbiamo aspettare un ospite speciale qui! Eh no, aspetta, dobbiamo un attimo stare qua perché il tavolo si sta preparando, però dobbiamo anche aspettare un altro ospite molto speciale! Venite, Cesena! Dai! Dai, quando arrivo... Tommi il problema... Ho fame! Ok, ragazzi, calmiamoci tutti quanti! Ma cosa? Ma, là giù c'è un limousine che ci fa? Guarda, guarda! Esatto! Oh, sta venendo qua! Esatto ragazzi, noi oggi... Andremo in... Andremo in... Limousine! Oh, no! 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 dai su questa è una macchina a vacanza qua ci viviamo ragazzi ma voi vi aspettavate questa sorpresa? la mia aspettavo ronald vi abbiamo fatto questa sorpresa perchè noi non ci vediamo mai e quindi quella mezza volta che veniamo a napoli bisogna festeggiare l'anno prossimo questa sera si mangerà panino del mcdonald pizza graffa graffa di shiro sushi e adesso chi vuole bere? io io servitevi qui c'è da bene l'anno prossimo ci portiamo i musina e ronald eeeh siete pronti per partire? si destinazione mercellina si è la prima volta che andiamo in un film eh si eh si parte si ragazzi mettete un po' di musica stiamo partendo ciao 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 musica ecco la cosa più bella è che da fuori non si vede niente da quasi esatto è vero si vede tutto nessuno può vederci qui dentro eh Dudo ma dove sei che non ti vedo Non ci sono e non ci faccio Non ci sei non ci fai Io vado bene se ci riesco Fai fare a me cosa vuoi Coca Cola o Lina Coca Cola ma non so quale mio bicchiere Ragazzi ma che state combinando Ma state strisciando a terra Signore videocamere Secondo me è meglio mettere l'acqua Eh sì Ecco gli anni Eh sì lì c'è il pozzo a bicchieri Mamma mia Ho potuto che ho fatto il signore videocamere Sì perché qua Sì Te lo faccio Sì 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 Questo qua è il mio Io me lo ricordo Questo tipo carta è tutto Esatto Quello è il mio Me lo ricordo Aurora io faccio il quattro e lo ricordo È sweet È sì Sì Sì, sì, sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti